Buongiorno ci siete, oggi c'è un sacco di cose da dirvi perché i giornali sono pieni di cose piuttosto interessanti a partire dalla cosa più straordinaria di tutti, dal punto di vista dell'interesse non tanto per quello che dice ma per dove lo dice e cioè un'intervista al Presidente del Consiglio Conte fatta da Alessandro Sallusti sul giornale c'è un'apertura con l'intervista al Premier e dice varie cose io non mollo e questo l'abbiamo capito tutti quanti non c'era bisogno dell'intervista no a governi tecnici che è esattamente una declinazione della prima frase e l'altra cosa invece che è forse quella più interessante ed è forse anche il motivo per il quale si è rilasciato un'intervista al giornale notoriamente non lontano da Berlusconi dice Conte al giornale Forza Italia opposizione costruttiva insomma questo alimenterà tutti i pettegolezzi nelle prossime settimane sull'ipotesi che il governo possa essere allargato a componenti diverse rispetto a quelle attuali chi vuole intendere intenda pensa un po' tu poi dice Draghi è autorevole ma probabilmente non c'era bisogno di Conte per saperlo ma dice un'altra cosa interessante cioè che Colauca appena appiazzato in una delle numerose task force non sarà ministro ovviamente Sallusti e Alberto Signero gli chiedono anche delle task force anche su questo Conte come sempre svicola ma devo dire che rispetto alle svicolate che fa Conte il solo fatto di stare sul giornale rende l'intervista più interessante non risponde alla domanda se metterà o no un eventuale veto al Consiglio Europeo se non dovesse piacere quello che esce dal Consiglio Europeo proprio non risponde come è tipico di Conte e cos'altro diceva? poi cerca di rispondere a Cassese che aveva detto che questi DPCM erano dei decreti con cui ci toglieva la libertà senza alcuna giustificazione costituzionale e lui dice in momenti di emergenza e fretta si commettono cose si fanno cose che i giuristi che stanno nelle loro stanze non riescono a fare insomma gli dà uno schiaffetto dicendo poi prova tu praticamente a governare vedrai che le cose sono più complicate cose che ovviamente io condivido sulla fase 2 e su tutto il resto è decisamente generico ma l'intervista a Conte poi riapre l'altra questione fondamentale della giornata scusatemi ieri c'è stata la cabina di regia perché oltre alle 15 task force ci sono anche le cabine di regia fra un po' ci saranno gli stati generali fra un po' ci sarà la sala della pallacorda non so che cosa cavolo ci inventiamo per non decidere nella cabina di regia che invece è una cosa importante a parte le battute perché si mettono insieme governatori regioni e stato centrale beh insomma ieri il governo ha fatto capire bene mi sembra da tutte quante i titoli dei giornali in particolare il Corriere della Sera che non si riapre le regioni avevano fretta volevano partire un po' prima volevano attivare qualche cosa prima e come sapete secondo l'ultimo decreto cosa possono fare le regioni? se il governo dice aprite queste cose le regioni possono dire con gradualità cioè possono semplicemente rallentare quello che il governo nazionale una cornice nazionale permette il che ha anche un senso ma quindi se il governo non apre le regioni non possono aprire peraltro oggi c'è un'intervista a Boccia quello che disse che volevano riaprire per il dio denaro io vorrei sempre ricordare a Boccia forse glielo può fare sua moglie che ha un animo liberale potrebbe ricordare a Boccia caro Boccia non solo il tuo stipendio ma lo stipendio di tutti i dipendenti pubblici lo stipendio di tutti i poliziotti di tutti i medici non deriva dal dio denaro deriva dalla fattura di fabbriche commercianti e artigiani che tu vuoi chiedere a casa ab libitum lui dirà non è ab libitum vogliamo metterli in sicurezza il punto è esattamente questo se vogliono lavorare fateli lavorare o no? ovviamente no perché ci deve essere il rischio zero e c'è il comitato di salute pubblica dei nostri diciamo esperti uno di questi è Brusaferro l'istituto superiore della sanità dovete leggere oggi a pagina 5 l'intervista di taglio basso dell'istituto superiore della sanità dice nulla lo sport non dice nulla non sa nulla né della medicina né delle riaperture peraltro uno potrebbe chiedergli anche della vicina non hanno ancora capito nulla se non tenerci agli arresti domiciliari complimenti all'intervista di Brusaferro che dice oggi beh la nostra vita non potrà più avere orari di punta la nostra vita non vorrà più avere orari di punta toc toc Brusaferro ma secondo te quando metti le persone in fila per fare la spesa al supermercato come cazzo lo definisci quello? non lo definisci orario di punta lo definisci ragazzi ci mettete un'ora e un quarto per fare la fila probabilmente Brusaferro avrà delle alternative migliori probabilmente avrà un'applicazione che non funziona oggi in tutto il mondo che te la porta a casa probabilmente è come quegli architetti che oggi sapete cosa hanno detto gli architetti? gli italiani vivono in spazi troppo piccoli allora cari organizzazioni degli architetti so che ci sono tanti architetti che non hanno manco ricevuto i 600 euro qua e che vivono in spazi piccoli allora cari architetti associazioni degli architetti Fuxas il trombone Fuxas bene la nuova casa smart non avremo i soldi per comprare da mangiare e pensiamo alla casa smart complimenti ottima idea lo dice Repubblica non lo dice un pessimista come il sottoscritto ma io vorrei dire ai brusaferri agli architetti ma ragazzi ma voi non avete capito proprio nulla ma voi conoscete una persona normale? avete frequentato qualcosa che non sia il derussi o che non sia il posta o che non sia io vorrei solo frequentare questi alberghi vorrei solo andare in posti belli però mi capita di vedere che c'è gente che vive in 50 metri quadri mi capita vedere studenti fuorisede che dormono in quattro in una casa mi capita vedere famiglie in quattro che dormono nelle province italiane e che quando sentono che gli architetti che loro neanche si possono permettere dicono ma vivete in case troppo piccole ma ragazzi ma adesso è una roba che veramente tu ci credi mi capita vedere gente che fa la fila per andare all'esse lunga invece di farsela spedire a casa perché 6 euro e 90 caro brusaferro cambiano in una famiglia italiana se andare all'esse lunga o farsela spedire a casa se fare quella fila di un'ora e mezzo perché l'istituto superiore della sanità ha detto non ci saranno più orari di punta ma comunque lasciamo perdere nel frattempo siamo tutti contenti che Gucci riparta e non lo dico con ironia perché Gucci non è vendere soltanto le borse a 2.000 euro 5.000 euro sono ben contento che ci sia gente che venda e compra le borse a 5.000 euro non c'è nulla di pauperistico in me chi segue la zuppa lo sa benissimo ma c'è una cosa che mi fa sorridere perché Gucci riapre grazie alla consulenza di Burioni di Burioni perché Burioni dà consulenze cioè patenti savonarelesche di possibile quando Burioni dice che aprite in salute perfetto io consiglio la mia amica Nicoletta Spagnoli che sta aspettando da settimane il Via Libera forse l'ha avuto in questi giorni per poter far lavorare 20 modelliste e fare il suo come si dice campionario lei doveva rivolgersi a Brusaferri a Ricciardi a Rezza a Burioni oggi ne scrivo sul giornale la Trimurti che darà il timbro di salute nelle loro fabbriche per poi non averci capito nulla fino a un mese fa fino a due mesi fa per oggi loro vi danno il timbro se una fabbrica può più o meno aprire è quello che sta facendo Burioni facendo il consulente di Gucci di Kering è una grandissima multinazionale sono ben contento che sono riusciti a ripetere veramente lo dico però se il prezzo da pagare è quello di avere sempre il timbro di Burioni o chi per lui andiamo bene su Milano poi è stupenda oggi una ricerca perché continuano a pensare che tutto il problema sia di Milano Milano la ricerca l'ha fatta il San Raffaele voi direte è parte in causa ma poi leggetevela leggete sul giornale forse il pezzo dove è scritto meglio e il San Raffaele che cosa fa? prende le grandi città che hanno rapporti con la Cina che sono industrializzate che hanno servizi e scambi con la Cina prende l'area di New York 8,6 milioni di abitanti l'Ile de France 12,3 milioni di abitanti la Greater London che ha 9,3 milioni di abitanti Bruxelles 1,2 milioni di abitanti Madrid la città metropolitana 6,6 milioni di abitanti e la Lombardia beh che cosa si vede da questo studio che il tasso di mortalità della Lombardia è decisamente l'ultimo rispetto a tutte queste grandi regioni certo rispetto ad Andria per fortuna stiamo molto meglio ad Andria ma rispetto a Londra a New York a Parigi che sarebbe l'Ile de France a Bruxelles che c'è il tasso di mortalità più alto Milano e la Lombardia hanno un disastro di morti ma un tasso di mortalità molto inferiore alle altre regioni tra l'altro sostiene il San Raffaele e non solo il San Raffaele avendo avuto per primo questa vicenda e quindi essendo i primi preparati rispetto agli altri che potevano se non altro aspettarselo però le RSA sono quelle lombarde che contano oggi il giornale pubblica la lettera di Zingaretti perché abbiamo sempre parlato della Lombardia in cui diceva semplicemente di fare entrare nell'RSA i malati di Covid nell'RSA del Lazio i malati di Covid non gravi cioè dovevano uscire dall'ospedale e quindi potevano andare nell'RSA insomma questo l'ha scritto era sul sito della regione Lazio 28 marzo però il problema le indagini le procure sono solo per Gallera e come si chiama e Fontana nel frattempo Arcuri che è stato lì piazzato dal governo e che una conferenza stampa sì una conferenza no dice quanto è bello questo governo quanto è bravo questo governo stanno facendo tutto giusto ci sta pure il commissario straordinario deve tutto questo governo se no sarebbe stato straordinariamente a casa chiuso come tutti noi invece lui che vive di incarichi pubblici che ha sempre avuto nella sua vita oggi ci spiega che in Lombardia ci sono stati più morti rispetto a quelli della seconda guerra mondiale civili beh devo dire che Arcuri sta facendo di tutto per essere ben visto dal governo che lo ha nominato ammirevole Arcuri perché è uno che come spesso avviene non ti tradisce quindi lui sul governo bello dritto lungo e non perde tempo nel frattempo da segnalare Fubini che fa l'intervista al direttore generale del MES che si chiama Regling che è uno durissimo è considerato un falco beh insomma se sono vere le cose che dice uno dovrebbe anche avere un po' più di tranquillità perché dice se l'Italia accetta il MES sarà un prestito senza condazioni non sarà un'altra Grecia beh allora dice due cose primo che la Grecia gli hanno fatto un mazzo così perché questo è del tutto evidente ormai lo dicono anche loro il secondo dice che non ci saranno condizioni che è la tesi di una parte di Forza Italia che l'altro giorno in Parlamento ha votato dicendo ma per quale cavolo di motivo se ci vogliono dare 37 miliardi all'1% non li prendiamo cioè siamo pazzi dice una componente altra componente centrodestra dice è un segnale tremendo e non ci fidiamo delle possibili condizionalità che metteranno in un secondo tempo nel frattempo Di Battista torna sul fatto e non solo sul fatto e dice che l'Italia non può firmare il MES e non può accettare il MES perché l'Europa e può mettere il veto perché l'Europa non può fare a meno di noi insomma sul MES si dividono governo opposizione insomma si dividono un po' tutti nel frattempo il dato del sole 24 ore più interessante è molto semplice sapete che è successo a marzo 107 miliardi di euro sono andati via dall'Italia 107 miliardi di euro di liquidità che ha preso i conti italiani e è andato in conti stranieri è il cosiddetto sistema di pagamenti target cioè un sistema che monitorano le banche centrali e che riguardano gli scambi tra banche centrali e questi scambi tra banche centrali fanno vedere che dall'Italia sono usciti i flussi per 107 miliardi di euro non è una bazzecola ricordatevelo che quando vanno via prima va via la liquidità e poi vanno via le carovane vere con le merci vabbè un cavaliere un lavoratore su due un lavoratore su due chiede aiuti questo è il titolo di Repubblica mentre gli altri stanno continuando a parlare del virus aprire o non aprire eccetera Repubblica come spesso fa in questo periodo fa titoli completamente fuori dalla giornata ma invece in questo caso il più calzante di due di tutti tra cassa integrazione e bonus 12,5 milioni di italiani chiedono l'assistenza io chiedo a Brusaferri chiedo a Conte chiedo a Boccia chiedo a tutti quanti questi fenomeni pagati dagli italiani come cazzo pensano che questi italiani potranno campare nei prossimi mesi compresi loro con gli aiuti di Stato se nessuno poi dà imposte e lo Stato non riceve una lira dove li prende di soldi lo Stato quanto ce ne può prestare l'Europa se siamo un motore fermo ma questo a Boccia forse non gli arriva non gli arriva forse neanche al governo ma lo dico con amicizia a Boccia riprenditi cerca di capire che se non riparte l'Italia e se noi pensiamo a secondare Brusaferro e Ricciardi siamo fottuti fottuti tra l'altro Ricciardi è un consulente del governo ed è ex uomo dell'OMS dell'organizzazione della sanità pochi istanti fa su Twitter ve lo farò vedere tra poco sul mio sito ha ripubblicato un tweet in cui c'è una sagoma di Trump e una serie di nerboruti signori che lo prendono a cazzotti gli danno calcio in faccia gli danno gli schiaffi gli sputano cioè ha ripreso un hating nei confronti del presidente della Repubblica americana presidente americano allora io mi chiedo e vi chiedo a voi che mi ascoltate ma può un consulente del governo italiano rituitare sul proprio profilo Twitter gli insulti gli sputi la violenza nei confronti di Trump anche perché fino a prova contraria caro Ricciardi forse non ti è chiaro gli alleati degli italiani sono gli americani e quei cazzotti gli americani li hanno dato a nazisti e fascisti per renderci liberi a differenza dei tuoi nuovi evidentemente amici cinesi che sono governati da un partito comunista che fa orrore orrore e tu che cosa fai pubblichi lo sberleffo violento nei confronti di un nostro alleato ma io se fosse a Palazzo Chigi se c'è fosse una persona che ragiona a Palazzo Chigi mi prenderei Ricciardi e gli direi o chiedi scusa o te ne vai tanto per quello che serve Ricciardi secondo me potrebbe anche andarsi e alleggerire il peso non è possibile è ammissibile che si possa un consulente del governo non è Nicola Porro non è un giornalista che è libero di dire tutte le stupidaggi di questo momento è il consulente di Palazzo Chigi che prende a calcio in faccia il presidente americano che peraltro ha deciso di aiutare l'Italia ragazzi guardate che è una cosa di una gravità incredibile non si può lasciare io voglio dire nulla di grave cioè può farlo ma non da consulente di Palazzo Chigi nel frattempo Molinari per arrivare cose più serie che cosa ci dice ci dice che la covid cambia gli equilibri ceopolitici e da una parte la Cina ha perso credibilità ma dall'altra l'America essendo stata la più interessata da questa malattia sarà quella che perderà potere economico nel frattempo Cina e Russia alleate per far diciamo rompere gli equilibri dell'Occidente potrebbero riuscirci ultima cosa giustamente Libero e Claudia Osmetti sul Libero si occupano di una questione di cui non si occupa nessuno neanche noi giornalisti e questo mi spiace perché dicevo moltissime lettere ma non riesco da solo a seguirle tutte quante tanti italiani lasciati all'estero e di cui la Farnesina e Conte se ne fottono un italiano all'estero non può essere abbandonato e questa è una cosa che gli americani e tanti odiati americani da come si chiama da Ricciardi ce l'hanno spiegato anche un solo italiano bisogna dargli una mano e siccome l'Italia questa cosa l'ha fatta fino ad ora non riesco a capire perché non si aiutino gli italiani in Africa gli italiani a Santo Domenico gli italiani in Europa gli italiani in America che vogliono ritornare in Italia perché la grandezza di un paese non è fatta soltanto dagli aerei di Stato e cioè dalla possibilità di far volare i nostri politici in maniera privata ma anche dall'utilizzo di quegli aerei di Stato per salvare anche un solo italiano da un paese in cui oggi è confinato o no questa è la differenza tra un grande paese come è l'America che salva i suoi anche se sono singoli in giro per il mondo è un paese di pulcinella in cui Ricciardi può fare un tweet in cui prende a calci in faccia il presidente americano e nessuno gli dice nulla io direi che per oggi è tutto noi ci vediamo domani come sempre domani Quarta Repubblica il virus cinese perché così converrebbe a chiamarlo questo Covid esce da un laboratorio e una delle tante cose di cui parleremo domani insieme alla riapertura ciao